Via l'elenica! ... 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 E' un barro Allora a quali devo stare attento, allora, questo 105 va bene, aspettate se lo tieni così, infatti adesso abbiamo chiuso un po' il radiatore, quello che puoi fare è che di 100 dai un po' di aria ai radiatore, comunque hai un buon rapido, un picchi meno, vedi anche qualcosa in più, 120 lui sale, metti 4,8, prima te lo, perfetto, il bariometro, ormai stiamo a sedi da piedi, dovevo andare, e adesso andiamo verso San Pellegrino, si, se andiamo così andiamo verso San Pellegrino, San Pellegrino è 5274, 6.000, ci posiamo per fare, una costina che ce l'è, se è la valle, San Pellegrino lo siamo tutti a sinistra, San Pellegrino è 7, Certo Bellissimo Bellissimo Vani è quieto, da qualche parte extremely molto i suoi i suoi i suoi i suoi i dei suoi i bei i suoi i i i e i i limiti se il vino qui non ce l'ho qui mi sono messo questi punti un'altra in bana quindi questo è il Turembo la reale 170 qui parte la Valseriana ok noi siamo sotto a Semarino e questo qua non ce l'ho segnato non ce l'ho segnato non ce l'ho segnato come faccio il nostro testo come faccio il testo il nostro testo è di girare e tornare indietro Adesso possiamo fare la rossa che ti consiglio di fare quando vai a... Ehm... Cioè... Quindi via Nord Ok, via Nord, sì Appena appena e vai su Cogno Ok, ecco, 297 proveniente dal Sud 1900 più di mi quota Primo dal solo campo per successivo per raggio Perfetto Vedi che qui sei all'alto limite Perfetto E vai via così Poi la TMA Vedi che gira un po' a sinistra E ti consente sostanzialmente Vedi che qui ci sono le antenne Sì Di girare intorno alle antenne lì Stelando un po' il costone Ok Qui fai attenzione ovviamente agli allianti Che vengono a sganciare Qua, su quel montarotto lì Ok Basta Calma Con la barba con la gestina lì, ecco Si 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 Qui fai attenzione Si 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 Perfetto Noi ne ho visti Eh Facciamo la cosa Asi Oh sì Quanti dietro? Ah, perché c'è Contina? Bravo. Contina è lì in mezzo. Qual è il Cisano? Stendere con i 296 in finale 06. Questo è l'alto. Lavo di Carlato? Sì. Sì. Un punto di atterraggio dove vi farà prendere. Quel ristorante di Dicolo qua con l'atterraggio. qui dal 474, una vicinimente da est, e speriamo di avversicare tanto a 2.602, e rispetteremo un'unica lenta 2.3 3.3 3.3 4.3 4.3 3.3 1.3 4.3 4.3 5.3 5.3 6.3 6.3 5.4 6.3 5.3 è un altro base, quindi... Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!